Come sono i pantaloni della Daniela? Eh, come sono i pantaloni? Non è proprio con scia, eh. Oggi mi vuole buttare già dal balcone. Va, va che roba. Va, va. Va, va che roba. Chissà a vendi quanti soldi ti c'ha. Eh, costano questi. Costano, eh. Ti bestra scia, va. Che schifo non è una cosida. Che si fa? Un pelato che si vede di dire no che si vede di. Va che sta. E' una vergogna. Una vergogna. Stasera ti ha preso di simpanica. Non si rongio in niente da un ferro a tutti questi muri. E' una vergogna. Mai provando a ingirirci. Come si fa? Come si fa? Andai a ingirirci? Come si fa? Come si fa? C'è là. C'è là che roba? Mi fissi per far guardare. Mi guardi là. Ecco. Bravo. Guardi là. Allora. Allora. Ho used.